Siamo notati Gesù e Maria. Allora ragazzi, tutto bene? Ok. Il Vangelo l'abbiamo ascoltato bene? Com'è il Vangelo di oggi? Il Vangelo di oggi è un po' difficile, secondo voi, o no? È facile. E che ci dice il Vangelo di oggi? Sentiamo un po'. Vediamo. Che è successo? Lo vogliamo ripercorrere insieme, anche con i grandi? Allora. Dove vanno Gesù con gli Apostoli? Numero uno. Vanno su un monte. Un monte basso o un monte alto? Uno come sermoneta o un po' più alto? Che dice il Vangelo? Questo monte era alto, giusto? Vediamo un po'. Chi di voi ha mai fatto una bella camminata in salita? È faticoso oppure no? Non ve lamentate quando andate in salita? Ma quando c'è pizza? Quando finisce? No? Siete grandi scalatori di montagne? Io quando portavo i ragazzi d'estate a fare i campi, dopo 200 metri già stavano a dire basta, Don Leonardo, non ce la faccio più. D'accordo? Voglio vedere quando andiamo con voi se fate pure voi così, giusto? Quindi è una fatica salire sul monte, o no? Siamo d'accordo? Guardate che chi dice di no, ma io lo porto sulla stessa in previso, eh? Poi se apre bocca, vedete questo? Vedete? È il fratello di questo. Ok? Quindi, siamo d'accordo che è fatica? Anche i grandi sono d'accordo che è fatica? Magari poi se uno ha la passione è un pochino di meno. Vediamo un po'. Quanta gente va con Gesù? In quanti vanno con lui? Mazz, bravo. In tre. In tre. Erano apostoli questi tre, giusto? Ma gli apostoli in tutto quanti sono? Dodici. Dodici. E come mai sono andati soltanto in tre? Ce l'avete pensato? Che dovete stare attenti perché il Vangelo ci dà tanti messaggi, bisogna fare sempre attenzione, no? Quindi salgono sul monte, con Gesù, in tre. E l'altro ritro stava. Com'è che non ci stavano pure quell'altro? Adesso lo lasciamo come punto interrogativo, poi ce lo portiamo avanti, eh? Poi rispondiamo a questo punto interrogativo, però ricordate, no? Allora, vanno su sto monte. Che succede sul monte? Anzitutto, c'è un particolare, sul monte stavano, anzitutto, prima che succedessero tante cose, guardate, no? In disparte, quindi, loro soli. Stanno da soli con Gesù. Vi faccio una domanda, però dovete rispondere nel cuore. Non dovete rispondere all'altra voce, piccoli e grandi. Quante volte tu sei stato solo con Gesù, solo tu e Lui, senza nessuno, a parlare solo con Lui? Solitudine. Questo lo tenete nel cuore, eh? Vanno sul monte, in tre da soli. Cominciamo a vedere. Poi che succede? La prima cosa importante che succede. Vai! Qui c'è una parola un po' particolare, ora ve la devo spiegare un po'. Che succede a Gesù? Dopo appaiono Elie e Mosè. Ma la prima cosa che succede? Per questo che vi ho detto, insomma, avete capito bene il Vangelo, perché oggi il Vangelo è un po' difficilotto. Fu trasfigurato davanti a loro. Che significa trasfigurato, secondo voi? Chi lo sa? Ecco, Hai visto che è difficile? I grandi ce capiscono bene che significa oggi la domenica della trasfigurazione. La trasfigurazione? E che è stata trasfigurazione? Che è successo? Fu trasfigurato. In greco è metamorfè. Cioè, sapete se significa? Cambia di aspetto. Cioè, fa vedere a tutti qualche cosa che prima non si vedeva. E ci dà qualche particolare del Vangelo, no? Numero uno. Le sue vesti divennero bianchissime come il sole. Poi San Marco, siccome pensa che noi dice ma l'ha portata in lavatrice. No. Dice nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. Cioè, era un bianco non umano. bianchissimo, splendente di luce. Un altro Vangelo, non Marco, ma Matteo, ci dice che anche il volto di Gesù divenne tutto pieno di luce. Secondo voi, che significa sta cosa? Che è successo? Vediamo un po'. Che sarà successo? Che è sta roba? Voi pensate che Gesù faccia giochi di prestigio così, ma oggi facciamo facciamo un giochetto così tanto per fare qualcosa. È così? Fa così Gesù? No, no. Gesù è intelligente quindi se fa una cosa lo sa perché la fa. Numero uno, che cosa sta facendo e perché lo ha fatto? Cosa sta facendo vedere ai suoi tre su dodici? Chi ci arriva? Gli angeli custodi vostri oggi che fanno? Stanno in sciopero? Chi ci arriva? Vediamo un po'? Chi è che vi imbecca che veda qualche suggerimento? Ecco, l'angelo custode suo non sta in sciopero e lui ha le vecchie aperte. Cioè, bianco splendente di luce che significa? Sta facendo vedere chi è veramente. Perché secondo voi, se voi fosse vissuti ai tempi di Gesù voi sapete che Gesù è storicamente esistito, certamente, questo potevamo dire anche a scuola, d'accordo? Perché che Gesù Cristo è vissuto sulla terra è storicamente provato, ok? Anche dagli archivi delle fonti romane sanno che veramente un giudeo sotto Ponzio Pilato che si faceva chiamare Cristo è morto crocifisso, quindi che quest'uomo sia stato sulla terra non ci sono dubbi, ok? Anche gli atei lo devono riconoscere perché è un fatto storico come che c'è stata la seconda guerra mondiale. D'accordo? Ma il problema, qual è il problema? Chi è Gesù? Un uomo come tutti o qualcos'altro? Eppure qualcos'altro. Ma quando camminava per la Palestina, secondo voi, si vedeva che era anche qualcos'altro o sembrava un uomo come tutti gli altri? Sembrava un uomo come tutti gli altri. Sembrava come me. Cioè, voi vedete a me che sono un senso un essere umano, no? Ma Gesù apparentemente sembrava un essere umano come tutti gli altri. Se no, non avrebbe fatto questa cosa. Allora, vi faccio vedere una cosa, no? Perché le cose della fede non si vedono. Io tra poco consacro l'ostia, giusto? Chi di voi ha fatto la prima comunione che abbiamo un pochino parlato? Già. Anzi, alza po' chi ha fatto la prima comunione? Già. L'abbiamo parlato quando abbiamo fatto il ritiro prima della prima comunione. Ricordate? L'ostia che se vede prima della consacrazione è uguale a quella che se vede dopo. Cioè, è la stessa cosa. Ma prima della consacrazione è un pezzo di pane. Dopo la consacrazione l'ostia chi è? Che vi dico io quando ve la do? Vi dico il corpo di Cristo. Perché ora è diventato il nostro Signore. Si vede questa cosa? La vedete? Uno può pure andare a saffare la comunione dicendo ma il corpo di Cristo chi lo sa? Dice così il predima ma in vedo niente in sento niente capite? Allora voi sapete no? Ce l'ho portato qualcuno della parrocchia quando ancora si potevano fare i pellegrinari qualche anno fa che a delle volte Gesù ha fatto dei miracoli per far vedere cosa c'era sotto l'ostia non avete mai sentito parlare? Sapete? Se andate in un posto dell'Abruzzo che si chiama Lanciano c'è un'ostia che è diventata carne carne come la nostra sapete quanto tempo fa? 1200 anni fa e sotto l'ostia sono caduti 5 grumi di sangue che sono ancora visibili li hanno portati in laboratorio è sangue umano come quello che scorre nelle nostre vene allora che cosa ha fatto Gesù? Ha fatto vedere attraverso quel miracolo quello che c'è e che non si vede ok? Poi sono arrivati Mosè e Delia diceva lui chi sono Mosè e Delia? i fuori classe dell'Antico Testamento cioè tutto il tempo che prepara la venuta di Gesù sta lì dicendo è lui l'atteso poi arriva la nube vi ricordate? Avete fatto a carichismo un pochino di storia della salvezza? Quando è che c'era la nube nell'Antico Testamento? Ve l'hanno raccontato i carichisti la storia di Israele quando sono usciti dal paese d'Egitto ma quando Israele uscì dal paese d'Egitto Natascha dice che si con la testa quindi vuol dire che ve l'ha raccontata e che voi siete fatti in Avernica giusto? Chi è che accompagnava il popolo di Israele di giorno per guidarlo e per fargli vedere che era con loro? C'era Mosè che li guidava ma sopra che c'era una nube che è la segna della presenza di Dio vedete che qui arriva la nube e infatti dalla nube chi è che parla? Dio Padre e che cosa dice? Attenzione questo è mio figlio e quindi recchierete ascoltatelo voi sapete che ascoltatelo in ebraico è una parola forte cioè non è semplicemente ascoltatelo come state speriamo all'ascoltare Don Donab quindi vuol dire che tu senti senza avere la testa in area no no ma l'ascolti con attenzione perché quello che dice è importante perché quello che dice lo devi mettere in pratica alla lettera allora capite il messaggio di questa domenica? Allora adesso facciamo la t in sintesi poi chiudiamo se non diventiamo troppo lunghi numero uno per incontrare Gesù in maniera forte quindi per capire chi è veramente lui bisogna salire un monte quindi che significa? bisogna fare un po' di fatica questo è il tempo della quaresia cioè trovare tempo per Gesù vediamo un po' chi di voi non me lo dite perché se no mi mandate questo altro la domenica rispondete sempre nel cuore chi di voi la mattina fa la fatica di alzarci cinque minuti prima per dire le preghiere chi di voi la sera quando stiamo morti di sonno pure io sto morti di sonno certe sere che dico signore mio guarda quest'ultima preghiera te la offro per la fede perché sto proprio a morirmi di sonno sono distrutto ma la faccio però gli ultimi cinque minuti te li rega è una fatica sono piccole cose però dalle piccole cose si va alle grandi cose se non fai un pochino di fatica purtroppo Gesù non lo incontrerai bisogna dedicargli un po' di tempo e un po' di fatica e bisogna imparare anche a stare da soli e soli con lui qui oggi quando ci raduniamo per l'Eucharistia siamo tutti insieme e va bene ma tu devi imparare a stare un po' di tempo con lui ultima cosa perché soltanto in tre e non in dodici ci siete arrivati perché solo in tre e non in dodici perché non tutti e dodici che significa questo particolare che ci sta dicendo il Vangelo perché tre e non dodici vediamo che ci arriva come sta l'angelo custode tuo te la dà un'altra dritta perché tre e non dodici vediamo un po' non alzate le mani secondo voi anche i grandi facciamo un esempio di prima non alzate la mano ci vediamo nel cuore secondo voi tutte le persone che stanno qui dentro che già sono brave sono venute a messa la domenica che già è tanto ma secondo voi proprio tutti fanno sta fatica dei cinque minuti la mattina e la sera tutti o forse pochi che dite voi a occhio speriamo tutti ma è più probabile che sono pochi allora attraverso questo particolare il Vangelo che sta dicendo Gesù vorrebbe farsi conoscere da tutti però purtroppo quelli che se ne prendono pensiero e che fanno un po' di fatica sono pochi e allora che succede rimangono a valle mezza una vita è un ben bo che ne è tutto sto granché bruttarella essa sono persi l'occasione di incontrare Gesù perché questo episodio capite per i grandi è collocato la seconda domenica di Quaresima perché in Quaresima la Chiesa ci dice prega un po' di più fai qualche digiuno che te fa bene pure alla linea che hai capito per chi c'è qualche cosa fai qualche opera buona qualche opera di misericordia qualche lemosina perché così fai dei passi con cui ti avvicini a Gesù e puoi incontrarlo in maniera ancora nuova nella Pasqua che arriva ok questo è il messaggio di questa domenica l'avete capito? no avete capito? tutti? qualcuno non ha capito? ok domenica prossima facciamo un dipasso prima di arriva alla terza facciamo un dipasso della seconda i grandi hanno capito? i grandi hanno capito tutti? oh hanno capito? ok allora possiamo terminare siamo notati Gesù e Maria e grazie a tutti grazie a tutti